un caro saluto amici del canale youtube gianluca rossi tv siamo più sereni dopo il pareggio nella semifinale di andata in coppa italia all'allianz stadium davvero presente e devo dire che il finale l'uno a uno è un buon risultato e devo dire che siete stati anche molto attenti perché io mi sono espresso male nell'ultimo video editoriale e qualcuno giustamente non ha capito ma stavolta è colpa mia mi sono espresso male io perché ho detto che al ritorno l'inter aveva a disposizione due risultati su tre come se il gol in trasferta valesse ancora qualcosa ma spiego perché allora è un po contorto il ragionamento e dovevo spiegare entro il novantesimo ovviamente ma perché dico questo allora voi dovete tenere presente che l'inter non fa un gol su azione in trasferta dal 28 gennaio anche contro la juventus ha segnato su rigore il rigore di lucato guardate che non fare un gol in trasferta dal 28 gennaio è tantissimo in casa non segna su azione ripeto su azione dal 5 di marzo c'è un mese e perché per il resto sono sempre stati o alla spezia gol su rigore si va bene c'è interporto ma parliamo di campionato ragazzi non riusciamo veramente più a far gol su azione allora in quel momento il fischio finale nella mia testa è subentrato mi mi sono sentito come se avessi ottenuto un risultato da coppe europee vecchio stampo perché dico questo perché con l'uno a uno lasciamo perdere che poi si vai supplementare naturalmente se ancora 00 ma avevo compreso in quel momento che se anche non riuscissimo a segnare il 26 aprile a san siro al novantesimo noi saremmo ancora in corsa certo poi il gol è ovvio lo devi farne i supplementari in questo dicevo mi sento di avere a disposizione fino al novantesimo due risultati su tre perché se segniamo certo poi non devi prendere gol la chiudi entro il novantesimo ma se anche arrivi allo 0 a 0 al novantesimo poi sapete che in quei 30 minuti di supplementari può succedere tutto però siete stati attenti e giustamente avete detto ma no gianluca non va più il gol in trasferta lo so anch'io ma io mi sento in questo guardando al novantesimo perché poi i supplementari ripeto può succedere di tutto perché saltano un po tutti gli schemi mi sono sentito al ritorno come se avessi due risultati su tre ovviamente non è così ovviamente dobbiamo vincere per eliminare la juventus e andare in finale è ovvio è ovvio però siccome non segniamo mai pensate se al ritorno dovessi giocarlo sullo 0 a 1 per loro voleva dire dover far due gol e li campa a cavallo perché ripeto se non segniamo gol un gol me lo posso anche aspettare nei supplementari ma due gol insomma quindi l'1 a 1 è un ottimo risultato a parte che io poi sono un nostalgico a me piacevano i gol in trasferta a me piacevano i gol in trasferta alla legge dei gol in trasferta mi piaceva però questo è il regolamento per carità di dio non sono certo di quelli che si fanno i regolamenti in casa no visto che ci sono appena stato lì dove si fanno i regolamenti si contano gli scudetti come vogliono loro al nuovo delle alpi tra l'altro posso dirvi io mi sono fermato poi a lungo l'ampresa veramente male ragazzi l'hanno presa veramente male delle facce di legno infatti poi la violenza verbale che hanno sempre nel commentare tutto prescritti la cosa più carina che scrive uno che probabilmente ha la quinta elementare come titolo di studio manco sa la differenza tra imputato e indagato cioè quando li vedi così schiumare rabbia perché poi ripeto chi di mano ferisce di mano perisce perché tutto mi aspettavo tranne che pareggiassimo questa partita per un unesimo fallo di mano cioè incredibile e incredibile questa volta a favore nostro e non a favore loro certo poi la coda se andiamo a vedere a me sembra che l'espulsione di lukaku francamente sia una roba fuori dal mondo ma voglio dare proprio un buon esempio a quelli che non accettano nulla non accettano le sentenze non accettano il regolamento io ho visto la stessa esultanza di lukaku in a solna in svezia belgio 0 a 3 e la stessa in juventus inter 1 a 1 proprio le stesse immagini però arrivano il dottor sottile noi in realtà lui ha provocato il pubblico perché poi gli ha detto state muti adesso uno che dice state muti provoca quindi ragazzi non credo ci siano grandi chance ve lo dico subito no di di togliere di togliere la giornata disqualifica non avremo lukaku a ritorno amen e cosa devo dire io a parte che c'è gente quando non sanno perdere ripeto non sanno perché noi io riconosco 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 che inter juventus aveva fatto qualcosina in più la juventus ma era una partita da 0 a 0 all'annata riconosco per esempio che in campionata hanno perso 2 a 0 perché sono stati più bravi loro niente stavolta abbiamo fatto uno a uno col 70 per cento di possesso palla poi loro si difendono da dio e lo voglio dire ragazzi guardarli allo stadio la juventus si difendono da dio magari l'inter difendesse così stanno cortissimi in 20 metri con tutti i giocatori e l'inter continuava a girare gli intorno e non riusciva mai a trovare veramente la verticalizzazione perché loro si difendono benissimo quindi già avevi fatto un gol è tanta roba fidatevi ragazzi è tanta roba adesso dobbiamo già pensare alla salernitana però datemi tre un attimo perché voglio fare un po le pagelle le pagelle dei nostri perché le faccio sempre nel day after non so se questo risultato ci abbia rasserenato l'inter imprevedibile certo avesse avesse perso l'ennesima partita soprattutto con la juve sarebbe stato un dramma ovvio che non serve a salvare in zaghi adesso non potete farmi quelli che cambiate idea ogni minuto se abbiamo deciso che in zaghi non è in grado di perfezionare il suo percorso di crescita per gestire l'inter a lungo non è che possiamo adesso se anche raggiungiamo la finale di coppa italia cambia quindi ci siamo fatti un'idea io personalmente né un'altra continua a ritenere questa rosa non così forte come tutti mi dicono e poi e poi voglio se no sembra che voglia parlare male solo della juve ragazzi invece ho detto che si difendono benissimo e sono certo che quei minorati mentali che ancora una volta sono caduti negli usci miezchi eccetera qualcuno di questi gentiluomini col battesimo come massimo titolo di studio li avete visti probabilmente sui social beh ecco una cosa di cui di cui devo assolutamente dare atto alla juventus loro loro da questo punto di vista sono sempre stati perfetti se c'è una cosa buona che ha fatto andrea agnelli e quella di isolare queste cose sono certo che le persone che verranno identificate dalla juventus cioè quando la juventus fa il comunicato e dice perseguiremo in tutti i modi coloro che si sono resi responsabili di e di di cori razzisti non ho dubbi che questi alla juventus stadium all'allian stadium al nuovo delle alpi chiamatelo come volete faccio sempre su un casino non ci metteranno più piede e quindi questo da parte della juventus fatemelo dire è assolutamente meritorio poi possiamo discutere tante altre cose ma da questo punto di vista devo dire anche l'accoglienza io ci sono stato dichiaratamente interista come sapete sono stato accolto benissimo hanno un ufficio stampa onestamente molto molto funzionale sono molto bravo questo ragazzi glielo devo riconoscere poi io io che vivo da dentro poi per carità sapete come la penso su tutto il resto secondo me massa ha completamente preso un abbaglio nell'espellere lukaku adesso si inventano che pur andano ci avrebbe dato un pugno insomma io ho visto un bel pugno di quadrado e quindi va bene ma basta se no lasciamole questa volta loro con le loro facce di legno che ho visto al novantesimo le polemiche poi se vinceranno a san siro vorrà dire che saranno stati più bravi spero di non dover discutere ancora di cose arbitrati spero veramente allora andiamo sulle pagelle allora samir andanovic gli dò sei e mezzo ha fatto una grandissima parata su di maria ed è stato completamente colpevole sul gol è stato espulso dopo il fischio finale guardate che per far perdere le staff e randano non ce ne vuole quindi quadrado insomma ha messo a segno il suo colpo devo dire che in molti poi ha detto beh meno male così non gioca al ritorno noi siamo sempre fortissimi anziché dire beh vecchio samir va che parata che ha fatto siamo qua tutti contenti prima oddio gioca andanovic ne prendiamo tre che non è andata così ha fatto una gran parata adesso pure contenti che non gioca purtroppo ripeto ci sono voi non me ne rendete conto io quando io vi distingo ma perché è giusto che li distingua tra tifosi perché i tifosi che parlano così non me li filo proprio insomma perché io io credo sempre pur criticandola anche duramente di voler bene alla mia squadra e quindi questa circostanza anche ad andanovic danilo d'ambrosio sei terzo di difesa devo dire che è stato bravo tutto sommato non mi è piaciuto quando ha cercato di entrare in campo a fine partita già lui è stato espulso in un in un juventus inter recente porca miseria c'è in un intervento non andare a far casino ancora non l'ha fatto dunfriss dal suo colpo di testa che qualche comico qualche barzellettiere bianconero vede falloso è arrivato l'assurdo mani di bremer che rimesso in corsa alla partita però senza voto insomma acerbi 7 perché ha incartato perfettamente vlaovic quindi secondo me ottima prestazione bastoni 5 e mezza perché allora di maria è andato raramente nella sua zona però era messo male sul gol di quadrato ragazzi era messo male darmi anna ha spiegato un'occasione nel primo tempo però ci ha messo la solita corsa a destra ha tenuto comunque costice quindi sei barella sei e mezzo questa volta ormai protesta si nervosisce non ci faccio neanche più caso però corre combattere ragazzi barella con la juve di solito mi piace sempre perché uno che non molla mai brozovic sei e mezzo quindi sei e mezzo barella ma sei e mezzo anche a brozovic e lì poteva tirare meglio è di nega il gol per in un gran riflesso nel primo tempo poteva angolarlo di più però ha giocato di prima ha provato devo dire a scuotere l'intra anche a livello mentale poi l'ammunizione da un po condizionato mi è piaciuto comunque dall'ottantunesimo aslani senza voto mi chitare a sei e mezzo si è proposto sempre comunque ha provato in diagonale di sinistro ha recuperato pallone no no sei e mezzo di marco ha provato solo una punizione morbida da fuori area qualche affondo a tener basso quadrato però non è ancora il di marco che voglio io sei volsense invece molto male dal sessantottesimo entrato ha sbagliato sul cross di rabbiò ha lasciato solo quadrano che non la perdà errore grave male 5 gecko tanto movimento per i compagni il professore ha svariato ci ha provato insomma ha tenuto corta la squadra io professore poi anche dopo la sua gioia bellissima no mostrando il simbolo dell'inter insomma sei glielo devo lukaku ragazzi gli dovrei dare cinque da un certo punto di vista perché non l'ho mai visto ma poi anche per il fallaccio su gatti che comunque da giallo è di tranquillizzo ha trasformato il rigore poi si è trovato nel casino è un po di colpa gliela devo dare anche a lui ragazzi non trovarti mai nei casi dai facciamo cinque e mezzo e vi andare anche se ha segnato il male invece lautaro cinque perché tra gatti e bremer non l'ha mai vista non riusciva neanche a star vicino a gecko ragazzi lautaro in questo momento nessuno voglio parlare troppo forte per poi magari lui si sblocca a salerno però male 5 86esimo correa senza voto credo abbia toccato una palla forse in zaghi gli do sei però riconosco che i cambi di aslani ai gosses non sono stati giusti perché nella sera in colla hanno sbagliato tutte e due il piazzamento e praticamente quadrato è arrivato tutto solo dall'altra parte anche perché nel frattempo a cerbio con mi ricordo chi fosse forse stesso era scalato su milica non continuiamo a esserci sul fronte dei gol segnati tanto possesso palla però riconosco che la juve bravissima a difendersi diciamo che questa volta il pareggio l'ha raccolto più grazie all'errore di bremer che ha come ha messo giù la squadra però ragazzi non possiamo sempre parlare male no auguriamoci invece che dopo questo pareggio magari già da salerno l'inter riprenda a darmi qualche gioia e magari a farmi un gol su azione in trasferta che ribadisco non arriva incredibilmente dal 28 gennaio ciao a tutti adesso aspettiamo cremonese fiorentina per avere dei picchiare sull'eventuale finale ciao a tutti